Ma la salamia è tutta azzina, è la salida! Monta, monta, ciccio, balla! Avanti! A guardarti sembra di vedere un vecchio che cerca di scopare, te ne rendi conto? Avanti, palla! Non ti voglio più vedere! Vattene via, palla di lardo! Di qua, di qua la discesa, di qua! Ah cazzo però, non prende, si è disconnessa! Eh, occhio a non girare troppo perché le pietre ti fanno sbagliare! Com'è sta cagata? Perché i miei amici l'hanno fatto! Eh gli amici l'hanno fatto, gli amici si buttano sotto il treno e ci buttiamo sotto anche noi, bravo! Bella mentalità della micchia, del capro! Ho capito! Ho capito! Sì, esatto! Quello che sta facendo Steffi è la migliore... Brava, 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 brava! Passiamo a fare una garba! Dai, ci passiamo! E c'è chi va così? Vieni contesto, vieni! Contessa vieni! Contessa vieni! vadi 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 bella non l'aiuti non l'aiuti no qualificata qualificata dovresti censurare risultati ma chi sai uscita la scorreggione io mi devo ricordare non è che io ce l'ho tutta l'alima maledetta a me che mi sono messo in mezzo a questo cassino maledetto che io non la volevo tira su casnosli tiri su quel cazzo di ginocchio balla di lardo ciccio balla che ci hai riuscito alza il ginocchio alza il ginocchio alzalo e guarda me inizia a guardare me inizia a guardare me chiudo tutto chiuda chiuda vabbè ma lei queste qua le fa attenzione a guardare di qua Alex di qua attenzione colpo di scena clamoroso incredibile colpo di scena per la prima volta in carriera diventa leader del mondiale problemi 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 bellissima bellissima dangerous che nello che nello ma per Grazie a tutti